Allora, non è andata bene questo esordio casalingo della coccinella, Linda D'Alessio, disappunto in tutto? In tutto no, un po' di gioco lo facciamo ma sbagliamo troppo i fondamentali, vogliamo strafare e poi dobbiamo tentare all'inizio di fare le cose facili, provare con le cose facili e andare così, tentiamo troppo. D'Alessio, il primo tempo partite veramente un po' troppo compassate, sembrava proprio un freno attaccato proprio sulla schiena, poi l'ingresso in campo proprio di te e un'ottima intesa sembrava essersi trovata con Di Lorenzo. Sì, però diciamo all'inizio c'era un po', faceva pure tanto caldo, perciò forse pure quello, siamo partite un po' con calma. C'è stato un momento in cui sì, stavamo giocando bene ma non abbiamo finalizzato, troppe occasioni sprecate. Ecco, il tiro libero fallito vi avrebbe potuto ridare una piccola speranza proprio a pochi secondi dalla fine? Sul 2 a 1 sicuramente, forse, non lo so, era andata così. Allora, va male, l'abbiamo detto anche con D'Alessio, nell'esordio casalingo, perché l'esordio in campionato era stato anche dei migliori 2 a 1 a Formia. Purtroppo la Coccinella quest'oggi ha dovuto arrendersi a questa avversaria. Beh sì, diciamo che è arrivata la prima sconfitta dall'anno scorso, è stata comunque una partita difficile, specialmente perché comunque fa caldo, non siamo ancora abituati a giocare in queste temperature. La squadra avversaria è abbastanza comunque alla nostra portata. Ci ha detto tanta sfiga, complimenti al portiere perché veramente merita un applauso, ha levato delle palle che noi pensavamo già dentro, quindi anche una partita molto molto sfortunata. Ecco, però tra i reparti sembrava un po' essere troppo sfilacciata la squadra, ha difficoltà anche nel trovare le compagne. Nel primo tempo l'avissa Firaco ha dovuto metterci più volte la prestanza fisica, proprio il portiere, il tuo compagno di squadra, che è stata veramente superlativa. Beh, diciamo che con il nuovo mister stiamo cambiando anche tante cose, quindi iniziare tutto da capo non è facile, ci stiamo allenando comunque da un mese, quindi lo sappiamo, le cose vanno fatte piano piano, un passo alla volta, comunque stiamo anche cercando di entrare nell'ottica del nuovo mister, quindi le prime partite sono anche insomma per stabilizzarci, poi piano piano troveremo comunque... Sicuramente anche un campionato un po' più impegnativo rispetto a quello dello scorso anno, vi porta ad essere un po' più concentrate. Sì, 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 sarà sicuramente partite più difficili tutta la nostra portata, anche squadre più forti di noi, quindi sarà un bel campionato, ci vuole tanto allenamento e concentrazione. Cioè, ci siamo, però ecco, dobbiamo un attimino trovarci con il mister, perché comunque nuovi moduli, nuovi schemi, nuovi punti di vista di vedere le partite, quindi dobbiamo ancora amalgamare il tutto, la voglia c'è, l'organico pure, quindi è solo questione di tempo. Grazie.